eccoci buongiorno a tutti ea tutte spero mi vediate mi sentiate benvenuti io sono cristina darold sono una giornalista scientifica e oggi ho il grande piacere di fare due chiacchiere con una persona di cui ho molta considerazione che è telmo pievani che adesso ecco vedo che che state entrando pian piano dicevo telmo pievani che un chiaramente un grande divulgatore che non ha sicuramente bisogno di presentazioni e parleremo del suo libro che è finitudine che è un libro che è uscito pochi mesi fa per raffaello cortina editore che anzi ringrazio moltissimo perché ha reso disponibile il proprio profilo instagram per questa diretta allora adesso io guardo se telmo si sta connettendo quindi perdonate un momento appena lo vedo online poi lo faccio entrare così iniziamo la diretta nel frattempo appunto dicevo parleremo di questo libro che è finitudine ecco ora lo vedo che è un testo adesso ve lo faccio ve lo faccio vedere lo vedrete storto perché purtroppo la telecamera è così e che è un libro che io ho veramente apprezzato molto perché al di là del fatto che si si è arrivato in un momento della mia della mia vita in cui stavo approfondendo camiù stavo approfondendo anche il mito di sisifo quindi è stato caduto proprio a fagiolo come si dice e perché è un libro che non non si tira indietro davanti alle grandi domande alla grande domanda di fondo che è no quella sul senso della nostra della nostra vita del nostro essere comunità del nostro stare con gli altri insomma e lo fa nel modo che poi vi racconterà telmo vedo che è online quindi adesso telmo ti faccio entrare ti saluto bene ora dovrei in teoria aspetta ok dovresti aver ricevuto quindi a brevissimo eccoci ciao ciao buongiorno eccoci mi senti mi vedi sì benissimo benissimo anch'io allora intanto grazie perché di aver ricavato un po' del tuo tempo insomma per me è veramente un grande piacere perché adesso faccio come i ragazzi tutti quanti è una vita che ti seguo ricordo quando ero grazie di filosofia della scienza all'università con i miei amici non perdavamo un tuo intervento un tuo libro per cui è veramente un grande un grande piacere come dicevo io ho introdotto brevemente il tuo libro ti posso chiedere una cosa siccome sento un po' un riverbero succede ogni tanto avresti delle specie devo andarle a prendere però non ce le ho qua direttamente ahimè voi sentite per caso chiedo a chi ci sente sentite un riverbero anche voi io sento bene ok se vediamo che rispondi perché io mi sento io mi sento però però è già successa qualcuno ci risponde se no sì forse te le prendi mi sa siamo più tranquilli è un problema ok vado a prenderle la persona ci ha detto ok ecco è il bello del modo ciao Antonio ciao a tutti ciao azzurro ciao Jacopo ciao Jacopo bene vedo bene vedo parecchie persone eccoci 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 io dico che questo tuo libro è particolarmente è particolarmente è Cristina mi spiace ma non vanno bene per questo nuovo cellulare che ho ahimè si sente ancora l'iverbero adesso proviamo proviamo io lo sento io lo sento e purtroppo e purtroppo non ho le cuffie che vanno bene per questo per questo nuovo per questo nuovo guarda lo sopporterete un po' perché in realtà verai verai e allora il tuo libro il libro l'ho trovato particolarmente che conta conta da importante pregnante pregnante per l'umanità per l'umanità chiederti intanto chiederti intanto di sintetizzare questa tua operazione questa tua operazione è fatta l'unità l'unità aspetta Cristina perché adesso ti sento male anch'io in effetti sento un riverbero faccio un altro contro faccio un altro check con un'altra e arrivo subito se il riverbero è il riverbero è ma dipende dall'altro telegram provo con questo Prova Mi senti? Io ti sento benissimo adesso Eccoci, io anche non sento più riverbero quindi molto bene mi dispiace, sai, succede ogni tanto non con tutti, per cui è un mistero perché con alcuni sì, con altri no ma tant'è Dicevo, torniamo a quello che si diceva questo è un libro che affronta delle grandi domande e quindi insomma credo possa veramente essere di interesse per molti che ci ascoltano ti chiedo di fare un po' una sintesi per chi non ha ancora letto il libro su qual è stata la tua operazione particolare questa volta rispetto anche ad altri libri che hai scritto Ma guarda, è stata una serendipità come capita spesso nel senso che stavo studiando tutt'altro e ho incontrato una storia perché io stavo studiando Monod Monod è un grande genetista un grande biologo c'era una ricorrenza perché l'anno scorso, nel 2020 era il cinquantenario della pubblicazione di un libro bellissimo di Jacques Monod che tra l'altro consiglio a tutti di rileggere e ricordarsi è sentito Il caso, la necessità è un libro che ha fatto storia perché spiega benissimo come funziona l'evoluzione ci fa capire la rivoluzione darwiniana che è la nostra vita la nostra evoluzione è frutto di casualità quella delle mutazioni delle variazioni in queste settimane si parla di varianti del virus sono le mutazioni genetiche appunto casuali però poi c'è anche la necessità cioè l'ambiente come ogni individuo se la cava nella sopravvivenza e nella riproduzione studiando Monod ho riscoperto perché in realtà l'avevo già letto altre volte che lui era amicissimo di Albert Camus un grande scrittore che tu hai citato giustamente non sapevo se tu lo stessi rileggendo è capitato anche a me di riprenderlo in mano lo abbiamo fatto in tanti anche l'anno scorso perché è l'autore della peste che abbiamo riletto ovviamente perché è una chiave di lettura importantissima per quello che è successo anche a noi ci sta succedendo con la pandemia premio Nobel quindi sono due premi Nobel francesi uno per la letteratura e uno per la scienza e ad un certo punto ho letto ho cominciato a approfondire un po' la storia bellissima della loro amicizia perché fanno la resistenza insieme a Parigi contro i nazi fascisti però non si conoscono ancora si leggono si stimano ma non si conoscono poi nel secondo dopoguerra combattono contro l'unione sovietica che voleva strumentalizzare la genetica insomma sono due libertari due uomini indipendenti che ad un certo punto si conoscono e diventano amicissimi la loro amicizia purtroppo viene stroncata quasi subito perché Camus muore giovanissimo in un incidente stradale lo sappiamo il 4 gennaio 1960 ma pochi mesi prima in una cena in cui era presente un loro amico che poi lo scrive nelle sue memorie si chiama Jean Daniel che è poi diventato il fondatore del nuovo observatore Jean Daniel scrive quei due Monod e Camus erano così amici se la intendevano così bene che quando uno cominciava una frase gliela finiva quell'altro e allora leggendo questa cosa mi è venuta proprio la scintilla ho detto voglio immaginarmi un libro che loro quella frase la scrivessero anche e quindi mi sono immaginato quale libro avrebbero potuto scrivere quei due e mi sono ovviamente infilato in un guaio tremendo perché non avevo mai fatto fiction non avevo pensato al fatto che dovevo immaginare un libro scritto nel 1960 e quindi ho dovuto immaginare tutto quello che loro non potevano sapere cioè tutto quello che abbiamo scoperto dopo il 60 e quindi è stata un'impresa narrativa complicatissima però insomma il riscontro è stato molto positivo quindi sono contento beh direi il titolo è finitudine diciamo perché poi alla fine tra le tante cose si è arrivati lì l'imbuto ha portato lì cioè tutto quello che loro hanno detto scritto e che tu hai immaginato fosse la loro discussione cioè io ho immaginato te mentre stavi immaginando loro e mi sono immaginata 2500 kg di carte e a un certo punto ho detto vabbè ma qual è il fulcro? la nostra finitudine no? cioè capire chi è l'uomo la vecchia per quello dicevo all'inizio no? la domanda leopardiana per antonomasia no? cioè a che vale al pastor la sua vita no? e la vostra vita a voi cioè quella è di fondo secondo me per quello che io ho tratto dal tuo libro perché hai scelto questo? allora naturalmente questa è stata la domanda una delle prime domande cosa gli faccio scrivere a questi due anche perché la scrittura è molto particolare nel senso che dentro il loro libro immaginario che poi loro commentano perché io mi immagino è che Camus non muoia e Monod lo va a trovare in ospedale e gli legge le bozze quindi è lo schema se vuoi classico del libro dentro il libro quindi loro poi parlano e litigano discutono del libro che hanno scritto insieme in realtà poi il tema è venuto abbastanza naturale perché ovviamente ho pensato che il loro libro potesse essere il frutto della complementarità del loro pensiero quindi Camus da un lato è che non è stato soltanto un romanziere ma anche un filosofo importante è l'uomo è il filosofo che ci ha raccontato la condizione assurda dell'uomo quindi il nostro essere gettati in un mondo che non è fatto per noi il nostro far parte di una natura che non è né buona né cattiva non è né madre natura né matrigna ma è semplicemente indifferente alle nostre sorti la peste è questo è il bacillo è il morbo che arriva e non ha senso che uccida i bambini che uccida gli anziani la peste di Camus è tutta legata a questo tema dell'insensatezza dei fenomeni naturali però dice Camus noi dentro questa condizione assurda ci stiamo e dobbiamo combattere dobbiamo ribellarci dobbiamo fare il nostro dovere come fa il medico nella peste combattere per ridurre le sofferenze del mondo dei malati nel suo caso ed è una storia che abbiamo visto nei mesi scorsi e continuiamo a vedere anche noi ci riguarda proprio direttamente e dall'altra c'è Monod che invece è un genetista un biologo anche lui premio Nobel poi nel 65 lui cosa ci mette dentro? ci mette dentro le informazioni scientifiche e quindi il fatto che la scienza proprio ci sta dicendo che viviamo una condizione assurda e ci dice in particolare che tutto finisce che tutto è fragile che tutto è vulnerabile le nostre vite ovviamente ma anche la specie umana è nata finirà il pianeta Terra è nato e finirà quindi tutto finisce allora ho pensato che un buon tema comune tra loro fosse la finitudine anche perché in questo mi aiuta Monod perché Monod poi quando scrive il caso necessità lo dedica a Camus lo dedica all'amico Camus e se tu rileggi il caso necessità è pieno di passaggi impliciti che citano Camus all'inizio c'è la citazione del mito di Sissifo ma verso la fine una bellissima chiusa del caso necessità Monod dice ci troviamo come zingari nell'universo che è una bellissima espressione ma siamo nomadi ai margini dell'universo ma noi diamo un senso a questa nostra marginalità è proprio una frase camusiana però usata da Monod quindi diciamo che ho usato questo filo conduttore che già Monod suggerisce nel caso necessità ovviamente il paradosso qual è? che loro sono due naturalisti laici quindi rifiutano qualsiasi soluzione trascendente religiosa però non accettano la finitudine quindi la sfidano e provano a sfidarla in tutti i modi laici possibili fino ad arrivare appunto a scoprire le virtù della finitudine infatti questo dicevi ho tratto da Monod poi a un certo punto tu citi una frase bellissima che prima o poi mi tatuerò che è le scoperte migliori si fanno con gli occhi degli altri e questa è la cosa è proprio vero a me accade sempre poi magari ai migliori accade non sempre però insomma è una cosa piuttosto frequente senti tu citavi la peste io ti dicevo che stavo rileggendo in realtà io non stavo rileggendo Camus io stavo leggendo per la prima volta Camus perché mi vergogno dirlo ma in 30 anni non l'avevo mai letto sempre incontrato in varie circostanze ma mai letto davvero il mio primo incontro con Camus non è stato con la peste anche perché ne avevo abbastanza nei mesi scorsi per parlare di covid ed è stato per altre ragioni il mito di Sisypho che per me è una cosa enorme il mito di Sisypho cioè l'idea chiaramente il mito di Sisypho non è un mito greco insomma quindi no immagino tutti lo conosciate ma per come lo gira Camus cioè quest'idea di Sisypho felice noi c'è bisogno di immaginare Sisypho felice quello è un passaggio enorme no per l'essere umano cioè immaginare che siamo dei poveretti miserabili che trascinano il proprio masso in cima alla montagna che poi ricade e avanti così per sempre però siamo felici di farlo troviamo un senso in questo no quindi un po' questo mi sembra di capire insomma il nocciolo di tutta la faccenda prima di arrivare poi al tema della trascendenza che è insomma il motivo per cui volevo parlare con te c'è un po' quello il nocciolo duro lo zoccolo duro volevo fare un po' un discorso di passaggi no per chi ci ascolta allora intanto tu dici scusa se leggono l'evoluzione è una passacaglia è una ciaccona sono le variazioni Goldberg per chi conosce un po' la musica ecco si capisce da sé in che senso questo cioè come lo racconteresti ma questo è una conseguenza delle scoperte di Monod però in realtà è un principio più generale che vale per l'evoluzione di cui io mi occupo molto in realtà è una delle mie linee di ricerca tecniche io mi occupo di un processo evolutivo che si chiama Exaptation cioè per farla semplice sono tutti quei fenomeni evolutivi in cui le specie animali piante quello che vuoi esseri umani è successo molte volte anche a noi riutilizzano una struttura che hanno già a disposizione che si è evoluta per tutt'altre ragioni oppure anche senza ragioni può essere un effetto collaterale una ridondanza e la riutilizzano per una funzione nuova con una funzione inedita quindi è una sorta di bricolage evolutivo dove la selezione naturale funziona un po' come un artigiano che riutilizza un po' il materiale che ha a disposizione questa è un'idea che è stata per esempio raccontata benissimo da François Jacob che è stato il grande amico e collega di Jacques Monod e che alla fine degli anni 70 quando purtroppo l'amico Monod era già morto scrive evoluzione bricolage che è un altro piccolo capolavoro uscito anche in italiano per Inaudi dove spiega esattamente questo e spiega proprio questa idea che era tipica comune anche di Monod loro sono Monod, Jacob sono quelli che prendono il premio Nobel perché scoprono i meccanismi fondamentali della sintesi delle proteine quindi capiscono come il DNA viene regolato in modo che venga espresso in proteine diverse scoprono l'RNA messaggero tanto per dirne una quindi noi oggi non avremmo avuto il vaccino anti-covid alcuni dei quali sono fatti proprio a RNA messaggero se non ci fossero stata la scoperta di Monod e Jacob ma Monod e Jacob scoprono anche l'universalità del DNA cioè si accorgono che dalle scherichia coli all'elefante alla mosca qualsiasi essere vivente da un batterio a un essere umano ha lo stesso DNA cioè non perché è la stessa sequenza ovviamente ma il macchinario biochimico è lo stesso quindi vuol dire che è derivato da un antenato comune che all'inizio ce l'aveva e ce l'ha dato questa universalità che è una cosa vertiginosa bellissima perché siamo tutti affratellati dalla stessa matrice biologica tutti gli esseri viventi sulla terra significa anche poi però che l'evoluzione ha sempre lavorato sullo stesso materiale che è appunto quello genetico riutilizzandolo con variazioni continue quindi diciamo che la metafora musicale è perfetta sia perché Monod voglio ricordarlo è stato un grande musicista e quindi ci stava lui non lo ha fatto ma io me lo sono immaginato ci stava che lui potesse usare una metafora musicale in un libro di genetica e di biologia in particolare le variazioni Gold perché ricordo che Monod è stato un grandissimo violoncellista tra l'altro da giovane è stato incerto fino ai 30 35 anni se fare lo scienziato o fare il musicista poi sceglie per lo scienziato ma continuerà a fare il musicista e poi è stato un grande direttore di corali di Bach ha diretto una corale di Bach in California poi a Parigi conosce sua moglie in una corale di Bach insomma è stato un direttore d'orchestra e quindi le variazioni Gold erano perfette per raccontare questa idea metaforicamente quindi sostanzialmente che l'evoluzione è sempre una variazione sul tema il tema è il DNA che viene continuamente riutilizzato e riadattato per nuove in vista di nuove funzioni ecco questa è un'idea affascinante secondo me se proviamo ad applicarla all'affascinante insomma importante da tenere in considerazione se l'applichiamo alla coscienza cioè il problema della coscienza da dove viene la coscienza perché a un certo momento si è sviluppata una forma di vita scusa se utilizzo dei termini non sempre corretti nell'ambito ecco diciamo forma di vita che che è cosciente e autocosciente e soprattutto l'evoluzione la coscienza è un vantaggio evolutivo oppure no e loro se lo chiedono infatti nel libro a un certo punto ovviamente se lo chiedono perché una delle specificità umana non dico eccezionalità perché in realtà è una specificità perché poi ogni come Mono stesso ci ha insegnato ma già prima Darwin non c'è il meglio il peggio nell'evoluzione ogni ogni forma di vita è una traiettoria di esplorazione del possibile naturale ed evolutivo però certamente Homo sapiens per quanto riusciamo a capire è l'unica specie che è consapevole di sé e quindi anche consapevole della propria finitudine le altre alcune altre specie pensiamo agli elefanti o gli scimpanze sembrano essere consapevoli quando un loro simile muore lo coccolano se lo tengono vicino sono dispiaciuti oppure lo allontanano lo mettono in un posto dove poi ogni tanto tornano a vedere quindi è chiaro che sono a tratti colpiti da qualcosa che è successo e capiscono che è successo qualche cosa però soltanto in Homo sapiens e in poche altre specie umane come Neanderthal per esempio troviamo atteggiamenti come le sepolture rituali quindi è morto un compagno o una compagna del mio gruppo e io faccio un rito nel quale la saluto lo accompagno gli metto vicino i suoi oggetti e quello è proprio il segno evidente del fatto che c'è una consapevolezza del fatto che non c'è più che sta facendo un viaggio perché penso che sia una transizione e poi penso anche che succederà anche a me e quindi poi voglio che sia fatto lo stesso anche con me che è una e questa invece la capacità di astrazione anche questa è molto rara vederla negli animali così come è molto raro negli animali vedere atteggiamenti rivolti al futuro cioè dove io imposto i miei comportamenti sulla base di aspettative future c'è qualche inizio di un comportamento di questo tipo per esempio negli scimpanze e in altri primati però è molto raro quindi oggi gli etologi pensano che la nostra unicità la nostra specificità sia legata proprio a questa capacità immaginativa dopodiché sapere quando la coscienza si è evoluta è molto difficile ovviamente perché la coscienza non lascia fossili non è non è facile capire quando si è evoluta devi sempre usare delle prove indirette e quali sono le prove indirette sono i manufatti sono i comportamenti sociali e quindi è veramente molto difficile però diciamo che quello che oggi pensiamo è che Darwin avesse ragione Darwin nell'origine dell'uomo dice una cosa molto coraggiosa dice persino la coscienza che è lui dice la capacità umana più alta più nobile più sofisticata anche quella ha avuto delle gradazioni nelle altre specie e noi pensiamo che sia così per esempio il sapersi riconoscere in uno specchio cosa che sanno fare diverse altre specie è un inizio è un tassello dell'autocoscienza perché vuol dire che io capisco che quello che sto vedendo nello specchio non è un altro ma sono io e quindi sai ci sono questi animali che nello specchio vedono che hanno una macchia sulla fronte e fanno così quindi hanno capito che sono loro nello specchio però ecco a parte questo è molto difficile davvero capire e nel libro c'è anche quest'altra domanda appunto ma la coscienza serve a qualcosa perché noi non abbiamo ancora capito se l'essere coscienti davvero ci aiuta a sopravvivere meglio a riprodurci di più cioè ad avere la fitness darwiniana però questa non è una domanda poi terribile perché noi sappiamo che ci sono tante caratteristiche umane che non servono a niente ma sono meravigliose basti pensare all'arte e a tanto altro ecco è anche un bel esercizio per ricordarci che siamo dei miserabili alla fine contro quello che nell'universo insomma contro tutte le arie che ci diamo baldanzose che alla fine non sappiamo nemmeno se ha senso per la nostra evoluzione essere coscienti no scherzo giusto per così senti ma secondo te cosa hanno capito Camus e Monod alla fine del libro mi hai fatto anche fare un piantino e io sono una che piange abbastanza facilmente ma mi sono da lacrima quando ho letto la fine perché vabbè ma non dico altro non spoilerò vai ma diciamo che appunto loro io volevo che anche il libro avesse una sequenza narrativa un po' da giallo filosofico cioè mi piace poi che il lettore stia attaccato alle pagine per vedere come va a finire e loro passano in rassegna tutte le possibilità che un laico appunto un non credente può avere nello sfidare la finitudine e quindi la tecnica per esempio affidiamoci alla tecnica per diventare immortali però Monod perché questo Monod è molto interessante molto strano Monod era un grandissimo scienziato ma non era affatto convinto che la tecnica ci avrebbe reso immortali per esempio era uno alla fine lui era un grande umanista perché so che può sembrare assurdo ma era un grande umanista perché alla fine lui dice poi quello che ci salverà sono i valori umani è l'etica è la politica quindi non la tecnica la tecnica ci aiuterà è fondamentale però poi come dite noi siamo esseri umani che creano il regno delle idee come lo chiamavamo appunto e quello è un regno dove noi ci mettiamo dentro la nostra fantasia lui era un socialista quindi lui sosteneva poi le idee dell'uguaglianza della giustizia ridistributiva e quindi è un umanista in ultima istanza e su questo va d'accordo ovviamente con l'amico Camus poi passano in rassegna il tema del progresso ovviamente loro appunto erano due molto impegnati politicamente dicono sì certo è bella questa cosa che io muoio però se ho contribuito al progresso sociale e civile in fondo qualcosa di me rimane quindi un po' questo li consola però alla fine il progresso è pieno di controindicazioni quindi non si convincono tanto neanche di quello poi ci provano con il dna insomma ci provano in tanti modi alla fine la conclusione è che non possono sfuggire alla finitudine ovviamente però si rendono conto e qui è più Camus che Monod che ha detto in pagine meravigliose quali sono i valori della finitudine per esempio la libertà no cioè se ti accorgi appunto come dici tu che siamo una piccola cosa nell'universo però vuol dire che siamo una piccola cosa che può fare la differenza nel senso che non è tutto già scritto non c'è una provvidenza che ha già scritto tutto quindi siamo liberi nel senso che quello che facciamo dipende davvero da noi e può fare davvero la differenza la libertà oppure la solidarietà un altro valore fondamentale Camus lo ha scritto benissimo siamo tutti vulnerabili siamo tutti fragili però siccome lo sono anche tutti gli altri questo ci accomuna mi fa capire che io sono solo ma solidale nella solitudine con tutti gli altri e quindi la solidarietà nella condizione assurda che è una cosa molto molto bella e poi direi la dignità della vita umana anche questo può sembrare strano perché noi di solito soprattutto nel dibattito italiano pensiamo che la dignità assoluta della vita umana si possa fondare solo sul piano religioso e invece Camus ci dice no proprio perché la vita che noi abbiamo avuto in sorte per motivi casuali è l'unica che abbiamo e non c'è niente né prima né dopo vuol dire che ha un valore incommensurabile ha un valore assoluto nessuno la può la può violentare nessuno la può interrompere ricordiamoci tutte le battaglie che Camus ha fatto contro la pena di morte considerandola un delitto assoluto perché nemmeno lo Stato dice Camus ha diritto di interrompere questo che è il bene assoluto di una persona vivere e ricordo solo a proposito di Piantino perché quello è veramente un passo meraviglioso c'è in diverse opere di Camus anche nelle sue lettere quando lui dice durante la resistenza io ho visto andare a morte e andare al patibolo dopo torture molti miei amici e quando sapevo che andavano davanti al plotone d'esecuzione dei miei amici credenti ero molto ammirato dice Camus perché loro erano convinti che quello che stava succedendo in quel momento era solo un trapasso un passaggio verso un'altra realtà ma i miei amici non credenti dice Camus quelli mi atterrivano perché i miei amici non credenti che andavano davanti al patibolo sapevano che in quel momento stavano perdendo tutto che dopo non ci sarebbe stato nient'altro eppure lo hanno fatto hanno sacrificato tutto per i valori di libertà di giustizia e di uguaglianza quelli dice Camus per me restano degli esempi incredibili terribili anche perché appunto sapevano di perdere la cosa più preziosa che avevano e cioè la vita quindi ecco la libertà il valore della vita la solidarietà sono tutti valori che la finitudine può illuminare poi lì è quello che loro due comunque avevano detto e scritto la chiusa invece è inventata però mi piaceva molto e c'è il fatto che tu citavi il mito di Sissifo e Monod usa quella frase bellissima bisogna immaginare il Sissifo felice nel caso della necessità e ora mi è venuto da immaginare che in fondo la figura del Sissifo oggi qual è? è lo scienziato lo scienziato è il Sissifo perfetto perché lo scienziato è inquieto ha sempre davanti a sé l'ignoranza le cose che ancora non sa si pone una domanda magari trova una risposta quindi porta su il macigno fino in cima però poi c'è subito un'altra domanda quindi il macigno torna giù e lo deve riportare su quindi mi piaceva questa idea della figura dello scienziato inquieto come Sissifo il vero Sissifo è lo scienziato e questo mi sono immaginato che fosse Monod che lo propone a Camus cioè lo scienziato inquieto e questo è vero perché se tu guardi le biografie questo lo diceva un grande storico della scienza Enrico Bellone che in un suo libro ha scritto se guardi tutti i grandi scienziati sono tutti inquieti sono insoddisfatti inappagati sono felici dei loro risultati ma è una felicità sempre sotto minaccia come dice Camus perché appunto sono inquieti vogliono vogliono farsi un'altra domanda subito dopo l'ultima alla quale hanno risposto sono proiettati possiamo dire di fatto anche rispetto alle loro ai loro sforzi mentre parlavi pensavo quando dicevi il discorso del Plotone che Monod pensava ai suoi amici credenti e non credenti pensavo che in realtà i miei amici credenti poi mi dicono che non è che vivano proprio molto molto più serenamente anche se sono cioè poi alla fine nella vita quello che dicevi tu conta la vita conta l'etica non so nemmeno quanto effettivamente ti risparmi il dolore ecco poi nella vita all'interno della tua finitudine ma al di là di questo mi hai dato il là proprio per la domanda quella cruciale che volevo farti nel senso che ruota intorno al concetto di trascendenza laica che tu citi nel senso che io non sono convinta di essere completamente d'accordo con la conclusione quello che vale niente il mio parere ma voglio dire non sono completamente sicuro perché volevo proporti un confronto con il mondo l'unico mondo religioso che conosco che è quello cristiano altri non ne conosco ma non c'è diciamo un conto è la religione la religio un conto è un orizzonte di trascendenza che apre ecco allora mi chiedevo che differenza poi se puoi spiegare cosa intendi per trascendenza laica chi ci sta ascoltando e anche a me insomma e poi se c'è davvero una differenza tra una trascendenza laica e una trascendenza classicamente intesa mi spiego al di là di tutta la teleologia e l'escatologia che comunque sono due cose due concetti non proprio sovrapponibili ma insomma al di là di questo no? cioè quindi dell'idea che beati perché sarà loro il regno dei cieli e tutte queste cose qui in realtà nel mondo cristiano c'è una forte componente antropologica c'è tanta riflessione sull'antropologia al di là del discorso appunto di escatologico e per esempio se pensiamo a un esempio banalissimo che conoscono tutti il buon samaritano no? la parabola che ci insegnano sin da bambini la grandezza del samaritano no? non è cioè la chiamata a cui risponde da quello che capisco io che sono molto ignorante intendiamoci su questi non sono certo una teologa però insomma quello che arriva alle persone come me è beh la chiamata non è guarda che verrai premiato con altrettanti denari da un'altra parte cioè lo fai perché quello che hai dentro ti spinge cioè è un qualcosa che ti nasce dal dettaglio di dentro allora mi chiedo in un esempio così semplice che differenza c'è tra una trascendenza laica e una trascendenza che è come la posso intendere provare a vedere Cristo nell'ultimo nel tuo prossimo per esempio non so se mi sono spiegata se ho parlato troppo e l'ho infarcita troppo dimmi tu no no figurati ma sai questa è una domanda che mi hanno fatto tante volte molti amici sacerdoti per esempio è una cosa molto particolare ho presentato Finitudine già in diverse occasioni con amici appunto sacerdoti l'ho fatto anche settimana l'altra invece con le comunità valdesi protestanti questo libro ha suscitato molto interesse mi fa molto piacere anche dal punto di vista appunto di comunità religiosa benché io sia come Camus e Monod come i miei protagonisti un laico e un non credente per rispondere alla tua domanda io direi come dire direi più che mai oggi la trascendenza laica e quel tipo di trascendenza che indicavi tu si incontrano nel senso che sono alleate per certi aspetti nel senso che facendo questi dialoghi appunto anche con comunità di credenti la conclusione a cui spesso siamo giunti è che sulla difesa della natura sulla difesa delle prossime generazioni sul il grido della terra il grido dei poveri per citare Papa Francesco nel Laudato Si oggi c'è una convergenza molto forte tra chi come Camus e Monod pensava a una trascendenza laica e chi invece pensa a una trascendenza se vuoi metafisica la trascendenza laica di Camus e Monod era quella che dicevo prima cioè l'idea che tu benché tu sappia che con la tua fine non ci sarai più tu come individuo hai però molte possibilità di lasciare un segno della tua vita un segno biologico attraverso il DNA le generazioni il contributo alle generazioni future un segno di civiltà un segno nel progresso civile nella lotta per i diritti civili avrebbero detto Camus e Monod ma anche semplicemente nella trama delle relazioni nelle idee che appunto hai dato hai contribuito a inserire nel regno delle idee come lo chiamava Monod ci sono tanti modi quello su cui Camus e Monod però insistono è il fatto che e questa è la differenza se vuoi tra una trascendenza tra certe interpretazioni della trascendenza metafisica e la loro è che loro non credono nel fatto che quella trascendenza abbia un elemento personale individuale nel senso che loro fanno c'è quell'esempio molto bello che è vero tra l'altro è una citazione criptica una delle tante citazioni criptiche che ci sono nel libro Monod mette dentro nel libro la richiesta della sepoltura che fece Bill Hamilton è quella dei coleotteri alati che è un passo del libro Bill Hamilton fu un grandissimo naturalista un grande evoluzionista uno lo conoscerai bene sono uno dei padri dell'idea di selezione parentela e così via e lui chiese quando era giovane tra l'altro non è che lo chiese da vecchio non è che stesse morendo disse io voglio essere sepolto in Brasile dentro la foresta amazzonica però non a caso voglio diede proprio l'indicazione del punto preciso perché lì vivono dei coleotteri alati molto particolari e io voglio che il mio corpo sia cibo per questi coleotteri alati e voglio che i miei atomi che gli atomi del mio corpo vadano a costituire i corpi di questi meravigliosi coleotteri alati poi sono andato a vedermeli sono veramente bellissimi con queste sfumature violacee sono veramente degli animali meravigliosi e lui disse io voglio diventare un coleotteri alato cosa voleva dire Hamilton voleva dire c'è una trascendenza materiale perché alcune parti di me sopravviveranno in altri organismi meravigliosi ma non sarò più io sarò diventato un noi un noi perché poi i coleotteri alati hanno una società quindi hanno una loro vita ed è bellissimo questo passaggio tra l'altro poi lui muore per le conseguenze della malaria che prenderà di lì a poco in Congo durante un'esplorazione naturalistica ecco quindi quella è come dire la differenza se vuoi perché invece non soltanto in quelle cristiane ma in altre diverse altre tradizioni religiose pensa alla trasmutazione delle anime e così via c'è l'idea che possa esserci invece una trascendenza individuale cioè che noi rimaniamo come individui coscienti di noi stessi anche dopo quella penso sia sul piano filosofico la differenza fondamentale ed è anche quella per cui per esempio Camus e Monod dicono sì vabbè certo il DNA è eterno perché il DNA è virtualmente eterno è sempre lo stesso da quando la vita è cominciata quindi ha quasi 4 miliardi di anni però ogni volta passando da una generazione all'altra non siamo più noi non è una trascendenza che li soddisfa perché comunque è un pezzo di noi ma non siamo più noi però in fondo ti rilancio la palla anche molte trascendenze laiche che noi ci immaginiamo oggi non so farci clonare oppure mettere la nostra mente dentro un floppy un driver esterno con la speranza che possa essere reimpiantata in futuro in un nostro cervello se ci pensi anche tutti quei tentativi non salvano la nostra identità perché un clone non è noi un clone sarà un'altra persona comunque da noi e se io prendo tutta la mia vita tutte le informazioni che ci sono nel mio cervello ma le metto dentro un altro cervello è comunque un altro corpo con un'altra storia con altre emozioni diverse dalle mie quindi comunque se vuoi se vogliamo la trascendenza individuale dobbiamo proprio rivolgerci alle religioni perché invece nella nostra dimensione umana non ce la facciamo certo ma mi pare di capire che alla fine il punto d'incontro si trova non tanto sul concetto di identità quindi diciamo anche ontologico eccetera ma più sul fattore etico no? cioè se noi pensiamo all'impegno cioè se alla fine quello che resta che noi pensiamo una trascendenza laica o non laica quello che resta è appunto ti trovi il tuo prossimo sdraiato per terra mezzo morto tu che fai? no? come ti comporti? cioè quella è poi la domanda l'impegno quello che dicevi anche tu prima l'impegno politico l'esserci proprio nel mondo ecco quindi secondo me questo è il messaggio per esempio che io mi porto a casa da tutta questa questa grande riflessione cioè che non deve esserci una scelta cioè che l'etica appunto non dipende necessariamente dallo scegliere in partenza una trascendenza un'altra trascendenza perché alla fine se rifletti sulla tua affinitudine convergi in qualche modo in una presenza attiva e responsabile lì c'è anche tutta una filosofia sull'etica della responsabilità per l'altro eccetera ecco insomma quindi io ti ringrazio perché mi hai veramente permesso di inquadrare questa cosa Cristina c'è un passaggio bellissimo che suggerisco ai lettori ai nostri ascoltatori di riguardarsi nella peste di Camus che è un terribile momento in cui muore un bambino muore un ragazzo di peste e Rieu litiga con il sacerdote perché il sacerdote è molto conservatore tradizionalista cerca la teodicea cerca di dare un senso alla morte di quel bambino perché appunto c'è il tema come mai Dio tollera il male nel mondo dov'è Dio quando muore un bambino un problema che per i credenti è molto è molto forte e Rieu risponde invece no vedi io non ci credo a questo io penso che la morte di questo bambino che ho cercato in tutti i modi di salvare non abbia nessun senso perché non è un castigo divino non è neanche un castigo della natura è senza senso è la stessa cosa che dicevi tu del samaritano però Rieu il medico che è la voce di Camus poi nella peste dice benché senza senso io farò di tutto nella mia vita per continuare a salvare i bambini li devo salvare tutti fino all'ultimo e devo continuare a combattere anche se non ha senso anche se non c'è un messaggio ulteriore in questo e questo è una interessante coincidenza tra il fatto che sia il credente che pensa che quella morte comunque sia scritta in un disegno sia il non credente che invece non ci vede nessun disegno alla fine concordano che bisogna comunque agire subito va bene guarda io non ti rubo altro tempo perché abbiamo già chiacchierato molto e insomma mi hai sciolto alcune questioni anche che avevo insomma e avrei un'altra minima domandina però veramente è solo perché a un certo punto tu dici la devo leggere bene insomma fai il discorso tra anima e il mondo delle idee allora tu dici il mondo delle idee sì lo crea lo crea l'evoluzione no cioè emerge insomma dall'evoluzione mi pare di capire però magari ho capito male per l'anima è una cosa diversa allora che differenza c'è tra anima come le collochi l'anima e il mondo delle idee perché sono due concetti insomma pregnanti no della metafisica entrambi certo ma diciamo quello è una cosa che Monod ha scritto quindi in realtà non sono io che parlo lì ho fatto proprio parlare Monod Monod lo spiega molto bene nel caso necessità dice Monod dice io sono un naturalista sono uno scienziato non penso che ci siano una realtà sovranaturale però non sono un riduzionista dice Monod cioè non sono uno che pensa che tutto quello che fa un essere umano possa essere ridotto alla sua condizione biologica perché dice Monod perché l'essere umano ha questo elemento particolare che in virtù della sua capacità astrattiva della sua immaginazione e anche del suo giudizio morale altra caratteristica tipica della nostra mente quella di generalizzare una regola di comportamento io creo l'essere umano crea il mondo delle idee che è una dimensione appunto mentale è quella che noi chiamiamo evoluzione culturale quindi è il modo con cui Monod diciamo si sottrae al riduzionismo tra l'altro anche Darwin pensava a questo Darwin dice molto bene l'origine dell'uomo che appunto le facoltà più nobili dell'essere umano quasi addirittura disobbediscono all'evoluzione Darwin fa esempio proprio della medicina dell'igiene del welfare come diremmo noi oggi tutte attività che l'evoluzione non ha previste che vanno contro la selezione naturale però ci rendono umani e ci rendono la parte migliore dell'essere umano questo è se vuoi un po' il paradosso dell'evoluzionista l'anima invece dice Monod ha una connotazione ontologica cioè vuol dire presumere e questo Monod lo rifiuta proprio da naturalista presumere che in noi ci sia appunto una componente ontologicamente c'è proprio una realtà trascendente che appunto è l'anima dentro di noi e Monod dice per me l'anima è il regno delle idee lo concepisco così quindi se vuoi è una riproposizione di quella differenza che c'era prima tra l'identità trascendente che c'è o non c'è ok ti ringrazio guarda abbiamo già intanto spoilerato anche la fine cosa che non si fa mai invece io faccio sempre spoilerò la fine perché poi è bello poi nel tuo caso è proprio bello lo dico a chi ci segue proprio leggere il libro al di là di sapere che cosa perché uno che ha già letto Camus e Monod lo sa già magari che cosa dove si va a parare però il libro è proprio strutturato con delle parti dove loro parlano e delle parti dove invece è più una spiegazione insomma più così quindi è proprio anche strutturato in maniera molto agile cioè ve lo consiglio sebbene appunto siano questioni non da poco insomma che richiedono anche un impegno ma ecco quello che ho trovato è un libro in realtà accessibile davvero e su vari livelli anche godibilissimo per un primo contatto con persone personalità così importanti e anche se mi permetti di dirlo poco studiate anche in ambito universitario perché io ho studiato filosofia della scienza come università ma Camus e Monod li ho proprio sfiorati Camus l'ho sfiorato un po' di più Monod molto meno per cui insomma è anche occasione per entrare un pochino di più in queste dinamiche ti ringrazio davvero tanto ringrazio Grazie a te molto gentile bellissimo figurati tu sei io ti invidio tantissimo perché tu non hai bisogno di avere nessun social network per cui vivi serenamente Raffaello Cortina è stato molto gentile per dare la disponibilità di usare il suo profilo e nulla spero tu scrivi tu scrivi ancora cose simili tu scrivi ancora ma tu so che sei molto produttivo e anzi congratulazioni anche per il BOI insomma la rivista dove si parla vi consiglio di leggerla il BO Live dell'Università di Padova dove ci sono spesso riflessioni di questo tipo e nulla io non ho visto domande perché sono anche senza occhiali per cui non vedo bellissimo insomma vedo che permettimi Cristina di fare solo un link ci tengo molto perché il BO Live è stato sai per quattro anni condotto da un giornalista scientifico meraviglioso che si chiamava Pietro Greco un carissimo amico che è scomparso il 18 di dicembre improvvisamente e con Pietro avevamo fatto un paio di presentazioni di finitudine bellissime quindi magari possono anche andare a rivedere abbiamo fatto una chiacchiera bella come questa su finitudine Pietro era curiosito anche appunto da un po' anche gli stessi temi che hai sottoposto tu quindi mi permetto di citarlo così possiamo rivedere tutti insieme Pietro come se fosse ancora qui tra di noi mi unisco calorosamente perché Pietro è stato uno dei maestri anche io di tutti noi che ci occupiamo di divulgazione scientifica in qualche modo per cui grazie per il bel ricordo e di nuovo Telmo grazie buon lavoro un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e grazie anche a voi alla prossima grazie spero a presto anche di persona fuori dai social speriamo dai speriamo in tempi migliori ciao e grazie ciao e grazie a te grazie a te